e con questo nuovo webinar segniamo proprio un vero inizio di nuovo corso relativo appunto all'asset allocation di portafoglio questo perché dal nostro punto di vista è l'asset allocation di portafoglio è uno dei tasselli importanti per creare valore nell'ambito della consulenza prima appunto di cominciare con il concetto di asset allocation di costruzione di portafoglio voglio fare un semplice paragone ipotizzando paragonando il portafoglio ad una squadra di calcio questo perché come i giocatori all'interno di una squadra di calcio hanno un ruolo anche i fondi che inseriamo che decidiamo di inserire un portafoglio hanno dei ruoli ruoli più difensivi ruoli più da attaccanti ma hanno sempre dei ruoli che vanno ben definiti ora anche nel calcio è stato definito il numero di giocatorie e ho trovato questa notizia molto interessante che dal libro la scienza del pallone di Nicola Ludwig e Gianluca Guerra hanno definito una formula matematica per determinare il numero 11 dei giocatori di calcio dove in maniera molto veloce le variabili sono la dimensione dell'area di gioco la velocità media dei giocatori e il tempo medio di un'azione queste tre variabili mi determinano il numero di giocatori in un campo da calcio allora il concetto che voglio esprimere che è visto che noi gestiamo anche i soldi delle persone è giusto avere delle regole che mi permettano di definire bene il corretto numero di fondi i fondi da inserire e soltanto il peso da dare a questi fondi quindi quelli che sono le logiche che abbiamo adottato per definire una regola che determini i portafogli e il numero di il numero corretto di fondi in un portafoglio allora l'esperimento che abbiamo fatto prevede innanzitutto di avere 400 fondi di tutte le categorie di avere un periodo di osservazione di sei anni e se prendiamo il rendimento medio di questo ipotizziamo portafoglio di 400 fondi nei sei anni ha reso il 13 per cento il secondo step è stato quello di creare 200 portafogli casuali composti da 1 a 100 fondi e questo che cosa ci ha portato ad osservare ad osservare che chiaramente all'aumentare del numero di fondi diminuisce il rischio quindi sicuramente c'è un effetto di diversificazione e il rendimento medio del portafoglio converge al rendimento medio di 400 fondi questo possiamo vedere come chiaramente fondi portafogli con un solo fondo possono avere rendimenti stratosferici come ad esempio il 150 per cento o anche rendimenti diciamo molto molto negativi oltre il meno 60 per cento e vedete come nella scala aumentando il numero il numero di fondi il rischio si riduce quindi l'obiettivo è cercare di capire e quindi diciamo ad un certo punto notete come è indifferente l'aggiunta di un fondo in portafoglio ora siccome aggiungere fondi selezionare fondi e diciamo richiede tempo bisogna capire anche qual è il giusto numero per ottimizzare anche questo tipo di di fattore cioè il fattore tempo andando un po più nel a fondo possiamo vedere come appunto l'inserimento analizzato i percentili eliminando i diciamo le code quindi i fattori i valori migliori valori peggiori i rendi a da un certo punto circa da da cinque fondi vete come poi i rendimenti medici si si stabilizzano e quindi fino ad arrivare circa 30 dove poi in maniera molto diciamo evidente i rendimenti medi portafogli convergono alla media dei 400 fondi detto questo che è un esempio molto importante non abbiamo voluto rafforzare la giustificazione di inserire il numero corretto di fondi in portafoglio analizzando anche quelle che sono le probabilità di rendimento positivo a tre anni rispetto al numero di fondi quindi io vedo che come all'aumentare del numero di fondi in un portafoglio le probabilità di crescita aumentano in maniera diciamo notevole e se noto all'altezza sempre di 5 barra 6 io ho una probabilità che supera il 90 per cento di ottenere rendimenti positivi a tre anni e allora abbiamo messo in relazione a queste due variabili probabilità diciamo di successo del portafoglio con la propensione al rischio data dal numero di fondi che abbiamo visto in precedenza e quindi abbiamo creato questa tabella dove suddividiamo diciamo l'alta capacità previsionale del portafoglio rispetto alla sua propensione al rischio questo è dovuto anche chiaramente agli strumenti che utilizzate per selezionare fondi di qualità per gestire al meglio i rischi e monitorare i rischi però diciamo la mappatura prevede che se io ho un'alta capacità previsionale quindi ho strumenti mi doto di tecnologia per selezionare al meglio i fondi che posso collocare per aumentare la diversificazione di portafoglio e voglio avere una bassa propensione al rischio il numero diciamo corretto che abbiamo individuato sta tra gli altri 15 fondi mentre se io ho una bassa capacità previsionale ed un'alta propensione al rischio mi trovo nel quadrante 15 20 fondi quindi qui diciamo in base a la tipologia del consulente la tipologia di strumenti che ho la propensione del rischio che ho questo arrange di di valori e di numero di fondi che vanno inseriti in un portafoglio o andrebbero inseriti in un portafoglio quindi cosa possiamo dedurre da da questo studio possiamo dedurre che oltre i 30 titoli diciamo non ha senso diversificare perché come avete visto il rendimento medio di portafoglio converge in maniera molto molto significativa stati cinque fondi ci prendiamo dei rischi molto elevati quindi i rischi aumentano in maniera molto forte e quindi attorno ai 10 20 fondi ho il migliore trade off per costruire un portafoglio che generi valore nel tempo il secondo step molto importante è quello di capire se io al come ho combinato i fondi all'interno del portafoglio perché se un po un portafoglio tutti i fondi che attaccano quindi tutti i fondi prettamente azionari chiaramente non ho diversificato non ho potuto una diversificazione al portafoglio e la diversificazione anche per l'ottica diciamo mifidue normativa è un elemento molto importante che contraddistingue delle scelte di investimento all'interno dei portafogli e quindi una delle cose che abbiamo creato all'interno diciamo del nostro percorso di formazione e diciamo del nostro dipartimento di ricerca e sviluppo è un indicatore di diversificazione che tiene conto sia dei fondi sia dei pesi ma soprattutto anche delle correlazioni che questi diciamo strumenti finanziari hanno tra di loro questo perché chiaramente i mercati non sono prevedibili ed è difficile riuscire a anticipare in maniera diciamo determinate crisi di mercato e quindi apportare una buona diversificazione e uno dei tasselli che aiuta a gestire al meglio i rischi di portafoglio quindi questo indicatore che si chiama diamant diversification level è un indicatore che mette in relazione i rischi dei singoli asset chiaramente pesati all'interno del portafoglio confrontati con il rischio complessivo cioè il rischio aggregato del portafoglio se immaginate un portafoglio con un fondo quindi facciamo il caso banale chiaramente non ho diversificazione perché la volatilità la correlazione il rischio del fondo e del portafoglio sono uguali se io aumento il numero di fondi quindi diciamo si innescano delle indicazioni delle relazioni che ad occhio nudo non possono vedere io riesco a capire la qualità di questo indicatore di diversificazione quindi unito al numero di fondi che ho in portafoglio devo anche capire come tra di loro si sposano questi questi strumenti finanziari questo perché il concetto di correlazione è un concetto molto sensibile perché sapeva molto bene che la correlazione è molto volatile soprattutto in periodi di forte volatilità dei mercati quindi se io riporto questo esempio è un esempio storico che abbiamo sviluppato qui in diamant la correlazione tra la correlazione sei mesi tra il mercato usa e il mercato e la borsa di hong kong potete vedere come ci sono periodi in cui le correlazioni sono molto elevate e le correlazioni sono molto basse quindi avere un termometro uno strumento un indicatore che riesca in base al momento di mercato essere tempestivo nel misurare la diversificazione del portafoglio in funzione anche delle correlazioni è fondamentale per creare valore all'interno del processo di costruzione di un portafoglio grazie a tutti